Ciao a tutti, io sono Mitalandia, mi è venuto in un nuovo video, come sempre prima di cominciare, sigla! Come potete vedere ho una tazza di latte e qui è la roma del latte ormai sapete quando c'è la roma del latte no quando c'è la roma del latte, quando c'è il pigiama c'è la roma del latte oggi mi tenete fatto nulla che c'è il tempo grigio qui non ho fatto una cavalata di nulla Cosa bella che c'è dietro di voi c'è il tesore dentro il cellulare dove ho detto, che è acceso via l'Italia, però ho messo in lezione ma che tanti caricano il cellulare quindi sono due cose insieme, tre cose incese no, tante cose incese, come potete vedere mi mancava fare il dolore del latte, anche che io parlo sempre in ogni video però mi piace, quindi lo faccio che dire forse prima domani è sessuale, quindi farò un vlog perché esco non c'è il sole ovviamente con la pioggia odio, odio la pioggia bene, la tazza è finita, quindi il video si chiude qua se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e se la vostra vita è grigia, solidete perché avete una vita sola ciao, alla prossima ciao